Siamo qui dinanzi La Gioconda, un'opera iconica ed enigmatica della pittura mondiale. Si tratta sicuramente del ritratto più celebre della storia, nonché di una delle opere d'arte più note in assoluto, che c'è là dietro di sé un alone di mistero. Eh mistero, mistero, Giacobbo ci porta nel mistero, ma qui la cosa importante è che dobbiamo riportarla a casa! Ma fa mistero di cosa? Questi francesi che ci rubano tutto! La Gioconda è nostra! Riportiamola a casa! E che caspita!